Dal 1 febbraio al 30 marzo torna Baccalafest, festival del baccalà stoccafisso nelle terre di Pesaro Urbino. Ad organizzarla come di consueto è l'associazione di cultura enogastronomica Viandanti dei Sapori che da quest'anno è affiancata dal sostegno di Commercio Marche Nord. L'evento con il tradizionale Giro Baccalà vedrà la partecipazione di numerosi ristoranti ad un gustoso tour gastronomico nelle terre di Pesaro Urbino con sconfinamenti anche fuori provincia. È un'iniziativa che noi abbiamo voluto fortemente perché è un prodotto consumatissimo nel nostro territorio dal mare al monte e non per questo abbiamo il sottotitolo Giro Baccalà che coinvolge tantissimi ristoranti quest'anno una quindicina del territorio della provincia di Pesaro Urbino con la giunta di altri ristoranti da fuori provincia che hanno voluto partecipare conoscendo la manifestazione hanno richiesto di essere presenti. Il baccalà e lo stoccafisso sono due prodotti o un prodotto di grande importanza nell'offerta enogastronomica della nostra regione direi per cui come Commercio da quest'anno abbiamo deciso di prenderci carico della coorganizzazione di questi eventi sia le due disfide che ci saranno il 24 e il 31 di marzo alla lanterna della famiglia Cerioni sia gli eventi che si svolgeranno dal 1 febbraio al 30 marzo in 20 ristoranti non solo del territorio provinciale infatti già da quest'anno abbiamo alcuni ristoranti delle altre province marchigiane con l'obiettivo nel 2025 di trasformare l'evento in una grande iniziativa regionale già quest'anno però insomma con 20 ristoranti che partecipano a questa iniziativa è un buon segnale c'è una partecipazione diffusa sul territorio a dimostrazione del fatto che appunto il baccalà e lo stoccafisso non sono un piatto solo fanese o solo della costa ma arriviamo fino a Pecchio ad esempio dove appunto viene proposta questo piatto e dunque fino al 30 marzo si potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti al prezzo convenzionato oltre a partecipare alle appassionate disfide gastronomiche le salate di disfide sono il 24 riservata agli amatori che sono le disfide gastronomiche riservate agli amatori cuochi amatoriali diciamo chiamiamoli cuochi amatoriali ma fanno dei piatti veramente straordinari con la passione che mettono nel cucinarli quindi parliamo di prodotti di cucina tradizionale ma non solo anche innovativa e di fantasia per cui il 24, il 31 abbiamo la gara dei professionisti, dei cuochi professionisti io li chiamo cuochi, non li chiamo chef, mi avranno pazienza ma io li chiamo cuochi sarà anche lì una bellissima gara tra loro sono ristoranti molto conosciuti nel territorio non solo della provincia perché è una gara nazionale che coinvolge anche diciamo ristoranti delle Marche, del Friuli Venezia Giulia e della Puglia siamo molto contenti di questa iniziativa che sta prendendo piede su un piatto della tradizione veramente del territorio che va dal mare al monte come dicevo prima e viene consumato in tutte le famiglie in tutto il periodo dell'anno quindi